1, 2, 2, 1 che si becca poi anche il rosso un doppio palo per la Fiorentina Chiesa che diventa di fatto il protagonista assoluto di questa partita perché appunto riesce a trovare con un tap-in al 76esimo il gol del 2-1 che permette appunto a tutta la Fiorentina assorso in particolare un sospiro di sollievo e di tornare a casa con una vittoria e anche la certezza del primato l'unico neo del giovane giocatore è appunto che con un doppio giallo ha rimediato all'84esimo una espulsione e però Chiesa Junior adesso il protagonista della Fiorentina non viene più considerato come scrive la gazzetta dello sport solo il figlio d'arte di Enrico in 5 mesi si è preso la viola l'attaccante festeggia la doppia cifra con i grandi e pensa già appunto anche lui in grande anche papà Enrico festeggia grande fede la Fiorentina torna quindi dall'Azerbaijan con il primo posto nel giornale J ma soprattutto con il 19enne Federico Chiesa che appunto si prende le copertine al di là dell'espulsione un gol in tapini importante le parole di elogio di Paolo Sousan che fanno capire quanto diventi sempre più importante il giovane giocatore per la sua squadra l'umiltà di un giocatore giovane che si mette a disposizione della squadra tre giorni dopo essere andato in campo con la primavera ancora una volta un assist vincente un gol nel finale un giocatore che sta completando una scalata che secondo alcuni è stata lenta in realtà il giocatore 19enne figlio d'arte dopo aver forse anche pagato questa cosa da certi punti di vista adesso si è preso la copertina non è l'unico figlio d'arte perché per averlo appunto la Fiorentina ha dovuto comunque superare alcune difficoltà di mercato e c'è un altro figlio d'arte in rosa con un cognome ancora più importante e per cui la Fiorentina ha pagato anche una cifra importante il 18enne appunto Agi talento straordinario che ha permesso alla Fiorentina di avere un Agi appunto in rosa Agi e Fieri Gheorghe Agi un giocatore davvero famosissimo e davvero di grande tecnica nel passato nel recente passato anche detto che il Sassuono non ha giocato la partita contro Genk perché ha deciso la nebbia gara rinviata nella giornata di venerdì e quindi si capirà anche come andrà a finire per i Genk per quanto concerne la qualificazione a questo punto l'obiettivo è già rivolto verso la sedicesima giornata di Serie A che si apre nella giornata del 10 di dicembre all'ora 18 con Crotone Pescara poi 20.45 Samp Lazio via via tutte le altre spiccano alcune gare spettacolari in particolar modo i derby della Movole Torino Juventus all'ora 15 dell'11 di dicembre e poi alle ore 21 di lunedì 12 dicembre arriva la già citata super partita Stadio Olimpico di Roma Roma contro Minan andiamo a vedere anche un po' quelle che sono alcune delle formazioni che potrebbero scendere in campo qui siamo ad esempio su Sampdoria Lazio con il 4-3-1-2 della Samp il 4-3-3 di Simone Zaghi i pugioni per la Sampdoria Pedro Ferreira Silvestre Scenerniac e Regini in difesa la linea di centrocampo è contro Reira Barreto e Linetti mentre Fernandez accompagnerà Quagliarella Moriel sempre più diciamo protagonisti d'attacco la Lazio confermata con il 4-3-3 prova inevitabilmente a rialzarsi dopo la pesante sconfitta nel derby di Roma e anche le polemiche che ne sono seguite Marchetti Trepani Radu Het De Vrij e basta in difesa Parolo Biglia e Regia e Mininkovic Savic ad accompagnarlo poi il tridente con Immobile ai centravanti Keita e Felipe Anderson ai suoi lati Simone Zaghi quindi vuole l'immediata risposta per accorciare verso il vertice della classifica laddove vuole definitivamente rilanciarsi in Napoli 28 punti in graduatoria vuole anche approfittare dell'incrocio tra Roma e Milan il Napoli affronta il Cagliari in trasferta il Cagliari che giocherà con il 4-3-1-2 con Storali in porta Isla Cipitelli Bruno Alves Pisacane poi Padoin Taxidis e De Sena Farias tre quarti con Borriello e Sau in Napoli confermatissimo nel 4-3-3 un Napoli spumeggiante in Europa ancora sempre Reina in porta Goulin Koulibaly al Boll Maggio che dovrebbe prendere il posto di Isai poi Dievarai mediana come cabina di regia Amsik e Zienischi i due intermedi Cagliarron Mertens attaccanti esterni probabilmente altra chance per Gabbiadini centravanti e almeno metà turno di riposo per Lorenzo Insigne e poi naturalmente siamo a un'altra partita decisiva per l'Inter un Inter che affronta il brillante Genoa che non più tardi di due settimane fa aveva combinato una sconfitta davvero importante alla Juventus l'Inter con i 3-5-2 probabilmente andano i cettropali Miranda Aranocchia e Morio in difesa Nagatomo che andava esterni larghi in centrocampo meno davanti alla difesa Brozovic e Joao Mario in cursori Icardi e Palasio di punte vediamo se saranno queste le scelte sia di uomini che di tattica per Pioli il Genoa invece conferma il suo 3-4-1-2 brillante per i tre pali Burdisso leader di difesa con Itzo e Munoz Laxalt e Lazovic i due cursori a tutta fascia Veloso e Rincon i due mediani registi Rigoni con il suo 30 sulle spalle ad accompagnare il figlio d'arte Simeone il Ciolito accanto a Ocampos con l'undici e poi le partitissime forse più attese in particolare quella di Torino Torino i campioni d'Italia di Max Allegri nel Torino naturalmente c'è Hart tra i pali Zappacosta Rossettini Castanne Barreca sono i quattro difensori in linea poi Valdifiori Regista Mezziali Baselli e Benassi sono Liayc e Falke i due ex romanisti e attaccanti esterni che faranno compagnia a Gallo Belotti centravanti con la ormai recente clausola di 100 milioni per l'estero la coppia di attacco invece della Juventus è quella pesante con il Pipita Higuain e Mario Mandzukic Pjanic dovrebbe accompagnarli in posizione di trequartista la linea di centrocampo è composta dovrebbe essere composta da Chedira Marchisio e Sturaro appunto nel blocco A3 in questo caso si parla quindi anche di difesa a quattro con Licksteiner Rugani Chiellini e Alexandro naturalmente a proteggere la porta di Gianluigi Buffon e poi si chiuderà tutto nella giornata di lunedì alle ore 21 stadio olimpico la giornata numero 16 di Serie A con Roma Milan qualche qualche differenza tattica tra le due formazioni in particolar modo per quanto concerne la Roma che deve far fronte alcune assenze naturalmente ci sarà Scesni tra i pali è probabile che la difesa tornerà a quattro o tre e mezzo come piace dire Luciano Spalletti con Rudiger a destra quindi un turno di riposo per Bruno Perez i centrali saranno Manolas e Fazio e Emerson sulla corsia Mancina sulla linea mediana in attesa di capire come andrà a finire per Kevin Strotman la linea dovrebbe essere a due con appunto De Rossi e Nainggolan sulla tre quarti teoricamente agirebbe Perotti in caso di assenza di Strotman con El Sharawi a destra in questo caso il corredere dello sport da per scontato che Strotman salterà la partita e di conseguenza inserisce Bruno Perez alto in una sorta quindi di difesa a quattro che potrebbe in realtà essere a tre con Emerson e Bruno Perez più alti naturalmente la cosa certa è che giocherà Edin Dzeko centravanti dopo i pochi minuti disputati in Coppa nel Milan c'è più chiarezza in attacco perché ci sarà la padula centravanti con Niang e Suso ai suoi lati nella cabina di regia ci sarà Locatelli con Pasalic e Bonaventura ad accompagnarlo la nina 4 con Abate Paletta Lex Romagnoli e Desciglio naturalmente Donnarumma e il portiere tanta attesa per questa partita entrambe le squadre a 32 punti e solo 4 lunghezze dalla Juventus che tra l'altro la partita di Torino è un derby molto ostrico queste due partite potrebbero dire tantissimo per l'alta classifica ed ecco perché Lazio e Napoli guardano con grande interesse questi incroci con la possibilità di accorciare e di portarsi davvero a pochi passi dal secondo posto e ovviamente interesse di tutte le tifoserie di queste due squadre che questo avvenga ultimi istanti i dirsenia sono dedicati alle parole di Balotelli che appunto ha in una recente intervista rinanciato il suo sogno da pallone d'oro se torna in Italia voglio soltanto il Milan ha detto in queste ultime ore ancora altri protagonisti che abbiamo accettato in avvio di rassegna come ad esempio Suarez che come annunciato dal presidente Bartolomeu del Barcellona ha rinnovato con i Blaugrana fino a 2020 e cosa fatta il rinnovo qui tutti gli vogliono bene ultima pagina dedicata a Lavezzi perché? perché viene secondo un sondaggio definito il paperone del calcio addirittura il superiore a Messi e Cristiano Ronaldo è il pocio il giocatore più pagato guadagna 27 milioni all'anno quindi più dei top appunto Messi e Cristiano Ronaldo c'è una lunga schiera di giocatori che guadagnano tantissimo questa cifra potrebbe essere davvero quasi bypassata del tutto da Carlito Steves qualora dovesse accettare l'offerta di cui abbiamo parlato di 40 milioni di euro dalla Cina noi con questa notizia abbiamo esaurito il tempo a nostra disposizione non mi resta quindi che rimandarvi alle prossime edizioni della nostra segna sportiva grazie arrivederci grazie a tutti